Un altro sistema per aprire le branche è quello di usare dei picchetti e dello spago. Lo spago andrà legato sulla punta del picchetto. Poi il picchetto va piantato a circa 50 cm dal fusto e nella giusta direzione dove noi vorremmo piegare la nostra branca. Il picchetto così piantato marcirà soltanto a livello terra e non nel punto dove noi abbiamo legato lo spago. Durerà così per più anni. Lungo lo spago creerò un'asola. Andrò poi lungo la branca a ricercare una femminella che mi farà da appoggio e non mi offenda la branca. Piegherò la mia branca nella direzione desiderata e quindi la fermerò. In questo caso abbiamo questa branca che è più grossa delle altre due che abbiamo precedentemente piegato. Per evitare scosciature alla base sarà bene ammorbidirla leggermente mettendo una mano molto vicina al fusticino e alla sua inserzione e quindi fare questa operazione. Una volta ammorbidita potremmo procedere con tranquillità alla sua piegatura. Il vantaggio di questo sistema è quello di operare su singole branche. Come in questo caso ad esempio dove due sono deboli e una è abbastanza robusta potremmo non solo piegarla di più di quelle deboli ma orientare tutte nella giusta direzione. Grazie.